Ci sono tanti modi per immortalare il presente e dire grazie a chi da mesi sta lottando contro il coronavirus. Piero Onizia ha scelto di farlo con quello che gli riesce meglio, la fotografia. Uno scatto, la cattura di un momento per trasmettere un'emozione, per raccontare la storia. Lo ha fatto da dentro un vero e proprio scafandro con la sua macchina fotografica all'ospedale di Cournier, diventato nella pandemia un centro covid. Centinaia di scatti, 80 dei quali proposti nella mostra Resistiamo con Umanità, nelle vetrine dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale di Via Arsenale 14G a Torino. Immagini che raccontano il presente, ma che danno anche un segno di speranza. Ho voluto entrare dentro per poter documentare questo momento che secondo me era storico. Io ho fotografato anche gli stessi ricoverati, dando una lettura più umana alla cosa, che era quello che mi piaceva fare, dando anche una speranza. Una dopo l'altra le fotografie raccontano la vita nell'ospedale, la difficoltà di medici e infermieri, la richiesta di aiuto dei malati. Nizia dietro mascherine e visiere è riuscito a dare un'interpretazione agli sguardi, a scorgere quel messaggio che spesso nemmeno le parole sanno esprimere con tanta intensità. Una delle fotografie per me più significative, quella che trasmette con più forza la cosa è dove c'è due operatori sanitari, uno sta prendendogli le mani a questo ricoverato che è nel letto disteso e dechinato su questa persona. Gli sguardi di queste due persone sono veramente uno sguardo di gratitudine bello. E un'altra che mi piace molto è dove c'è una signora anziana che spontaneamente ha fatto quel gesto col dito alzato e quindi c'è questo senso di gratitudine rispetto non a me che gli faccio la foto, bensì a loro. Un'esposizione fotografica ha dichiarato Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte, per stimolare un momento di riflessione su un periodo difficile. La mostra, promossa dal Comune di Curnier, in collaborazione con l'ASL Torino 4 e i Comuni Canavesani, resterà nelle vetrine dell'URP fino al 14 maggio. Successivamente il Comune di Curnier la riproporrà all'aperto. Le immagini saranno stampate su grandi striscioni ed esposte per le vie cittadine. Grazie. 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 Grazie.